Ciao a tutti ragazzi qui è Teddy e benvenuti ad un nuovo video, lo faccio perché ho tempo e ho ricevuto molti commenti, ho appena finito una live tra l'altro su Formula 1, ho iniziato a girare a Singapore perché si corre settimana prossima, non questa settimana, settimana prossima si corre a Singapore, uno degli ultimi appuntamenti di FMD, mancano oramai 5-6 gare penso, quindi siamo a fine campionato, quest'anno non ho mai provato a Singapore, oggi ero a casa lavoro e ho deciso di provare un po'. Durante la live è uscito un po' di domande sull'All Star Game, molti mi avete chiesto cosa ne pensi, ma hai visto le clip, hai visto tutto l'All Star Game, hai visto solo gli highlights, cosa ne pensi, insomma le domande su un All Star Game che ha deluso e non poco, sono usciti anche dei dati circa appunto lo share, quindi l'affluenza televisiva per l'All Star Game e c'è stato un crollo epocale da questo punto di vista, una cosa su cui Adam Silver dovrà ragionare, perché chiaramente il crollo è stato abbastanza imbarazzante, si parla di 3-4-5 milioni di persone in meno rispetto all'anno scorso e a due anni fa, cioè si parla veramente di una tragedia rispetto, tragedia ovviamente televisiva rispetto a quella degli altri anni. Io tra l'altro oggi vedevo anche il video del maestro di Sweet a riguardo, lui proponeva una soluzione per fixare questa situazione, per cercare di aggiustare questo crollo, di aggiustare questa discesa negli inferi che è stato appunto l'All Star Game di quest'anno, in tutti i sensi verrebbe da dire non solo dal punto di vista televisivo ma anche dal punto di vista qualitativo della performance in campo. Io del suo video non sono d'accordo su un paio di cose, la prima cosa è che l'All Star Game non è da fixare nel senso che bisogna mettere un fine, bisogna mettere una finalità, bisogna mettere un premio, bisogna mettere un incentivo all'All Star Game, non è quello il problema, il problema non è che bisogna fare Est contro Ovest, chi vince va, prende il fattore campo alle finals, perché facevo l'esempio anche in live, no? Carl Anthony Towns, All Star Game, no? Carl Anthony Towns gioca per l'Ovest, che gliene frega Towns di vincer la partita perché i Timberwolves potrebbero avere il fattore campo alle finals? Towns non ci va alle finals quest'anno, quindi che gliene fregherebbe a Towns di vincere la partita delle stelle per andare all'All Star Game, cioè non ne fregherebbe nulla, meno di zero, non è quello il discorso. O fai che mandi solamente i giocatori delle prime 8 a Ovest e delle prime 8 a Est e allora cambia discorso, perché quelle sono le squadre che andrebbero ai playoff e allora in quel caso diventa diverso. Se la tua squadra ha il fattore campo, ma se ci va Zion Williamson con i Pelicans 14esimi, a Zion non gliene frega minimamente una minchia di vincere la partita per avere il fattore campo alle finals. Quindi non è un discorso di mettere un fine, di mettere un premio, non si tratta di bambini. Qui non stiamo parlando di far performare meglio i tuoi alunni e quindi metti le caramelle, se in verifica prendi meglio di distinto. Non può essere approcciato un discorso del genere con giocatori che guadagnano 40-50 milioni all'anno lordi solo di contratto, sponsor esclusi. Non può essere messo una finalità, un fine, un incentivo da questo punto di vista. L'All Star Game ha perso completamente una finalità sportiva. Questo è il problema dello Star Game. Il problema dello Star Game non è che bisogna cambiarlo. O si toglie, o si fa giocare in un altro periodo dell'anno, ovvero off-season. Questa è la mia soluzione. O lo togli, perché oramai non ha più niente di pallacanestro. La partita delle stelle, il miglior highlight dell'All Star Game di quest'anno, è il campione olimpico di salto in alto che fa una put-back dunk migliore di tutte le schiacciate viste allo slam dunk contest. Qual è il problema di questa cosa? Uno, campione olimpico che gioca una partita di pallacanestro. Due, una schiacciata in partita delle stelle. Tre, la partita delle stelle. Quattro, che la schiacciata di un saltatore olimpico sia meglio della gara delle schiacciate. Solo la schiacciata di Tamberi, vista dopo l'All Star Game, racchiude perfettamente il senso, poco senso, il nulla cosmico, che è diventato l'All Star Game. È diventato una kermess pubblicitaria, uno sponsor, una messa in mostra di sponsor, non solo da parte dell'NBA, ma dagli stessi giocatori che si presentano con il loro brand, si presentano con le loro scarpe, si presentano con i vestiti in collaborazione con... La pallacanestro ha smesso di essere parte integrante dell'All Star Game, ben prima dall'anno scorso, ben prima di due anni fa. Sweet, in maniera anche abbastanza cruda, ma corretta, assolutamente corretta, ha detto, è dovuto schiattare, parole più o meno simili, è dovuto schiattare Kobe per fare in modo che una partita di pagliacci diventasse una partita finalmente seria dopo anni. E chissà quanti ancora ne devono schiattare per continuare questo trend. Ha detto una cosa del genere. Si può essere d'accordo meno come l'abbia detta, in maniera abbastanza cruda, ma ha ragione, ha pienamente ragione, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi sapete che io sono abbastanza crudo in alcune situazioni, quindi mi è piaciuto anche abbastanza che si sia esposto così, è dovuto schiattare Kobe, è piaciuto che ha detto, grande, ma cazzo si maestro, cazzo maestro! Allora, quindi, il discorso però qual è? Il discorso è che oramai l'All-Star Game è una perda di tempo, e i giocatori stessi si rifiutano di andare perché lo sanno che non ha niente a che vedere con la palla a canestro. Jokic, che non è un imprenditore, ok? Jokic non ha la mentalità da americano, e si vede, cioè si vede, Jokic è un trippone che si ammazzava di McDonald's prima delle partite, un giocatore americano non si ammazza di McDonald's prima delle partite, perché? Perché la sua figura è importante per il suo brand. Jokic non ha un brand da mostrare, quindi cosa dice? Ma io che cazzo me ne frega, nel quarto quarto mica gioco, che cazzo me ne sbatto. E infatti si è rifiutato di entrare, ma che cazzo gioco a fare? Lui ai microfoni ha detto non so cosa fare, no no, lui sa benissimo cosa fare su un campo di pallacanestro, e che non vuole, cioè per lui non ha senso, per lui non ha senso girovagare per il campo a perdere tempo. Serbo, quindi, sono molto pratici, come diceva l'avvocato, ecco, si vede anche da queste cose la praticità dei serbi. Lui dice, ma che cazzo me ne frega di giocare sta partita di clown? Mentre invece hai altri giocatori che vogliono andarci a tutti i costi, perché? Perché è dove mettono in mostra, non i loro talenti di basket, perché quelli lo vediamo in regular season e playoff, mettono in mostra il loro brand. Quindi, a livello di sponsor, a livello economico, commerciale, imprenditoriale. E l'All-Star Game questo è diventato. Prima i giocatori giocavano e l'NBA sponsorizzava, adesso l'NBA sponsorizza e i giocatori sponsorizzano. È diventato, letteralmente, la via Montenapoleone Week, Weekend. È diventato il... non lo so, è diventata una scusa per far girare soldi, non solo all'NBA, ma anche ai giocatori stessi, che usano l'All-Star Game per i fatti loro, sostanzialmente. Per i fatti loro. Questo è il significato dell'All-Star Game. Ha perso completamente il significato di essere una funzione sportiva. È, letteralmente, una tre giorni di capitalismo allo stato puro. Questo è l'All-Star Game. Il capitalismo estremizzato allo stato puro. È diventato. Ai me, ai noi, ai tutti. Poi, c'è chi lo vuole ancora, c'è chi vuole che venga tolto. E io dico, o lo togli completamente, perché così non ha senso. Cioè, se l'organizza l'NBA, la National Basketball Association, io voglio vedere cose che, con la palla canestro, centrino qualcosa. Se io devo vedere l'All-Star Game, che viene generato dalla NBA, ma poi mi si presenta Machine Gun Kelly a giocare la partita delle stelle, cioè, io, non è una critica a Tamberi, perché non è lui, cioè, il problema non è lui. Però, se tu devi invitare il campione olimpico di salto in alto, cioè, neanche campione olimpico di basket, ex campione olimpico, campione paralimpico, campionessa femminile, appunto, olimpica di palla canestro, devi invitare il campione olimpico di un altro sport, completamente diverso dalla palla canestro, non c'entra assolutamente niente, si salta e basta, l'unico problema, l'unica cosa che va insieme è che saltano, fine, non c'è nient'altro in comune, se tu devi invitare il campione olimpico di salto in alto, per raggiungere la soglia minima di stelle, celebrità, c'è un grosso problema, soprattutto perché diamine c'è questa partita delle stelle, se la competizione è di palla canestro, perché c'è una partita delle stelle, e perché c'è una partita delle stelle che non giocano neanche a palla canestro, perché mi si presenta Justin Bieber alla partita delle stelle? Posso capire Rachel DeMita, uno perché, ma secondo perché Rachel DeMita ha un background di palla canestro, cioè lei giocava a palla canestro alle superiori, poi ha avuto un'altra carriera a livello appunto con la Chuket TV e quant'altro, poi ha trovato Andre Roberson e ha trovato il Valhalla, mettiamola così, e adesso è un influencer che però continua ad avere legami con la palla canestro, quindi lei lo posso capire che viene invitata, perché ha un background di palla canestro, ma se mi viene invitato Valentino Rossi al Celebrity Game della NBA, non dell'associazione beneficiaria Canicatti Basket, ma è la NBA che mi invita personaggi che non hanno nulla a che fare con la palla canestro, semplicemente perché devono sponsorizzare, perché devono portare i nomi altisonanti, perché così i bambini e le bambine e i ragazzini che iniziano a spararsi le prime pugnette, iniziano a guardare l'All Star Game per vedere i propri idoli leggermente più sudati, in modo che il gioco di luci faccia risaltare meglio i lineamenti da strafighi che hanno, questo è un grosso problema secondo me, quindi il fatto che sia stata inserita la parete delle stelle già indica come l'All Star Game abbia perso completamente la sua funzionalità di kermess sportiva, ok? Solo questo dovrebbe far capire quanto oramai non esiste più legame tra l'All Star Game e la palla canestro. Passiamo allo slam dunk contest, perché il tiro a tre punti è sempre quello, ok? È sempre quello, non si può cambiare, possono inserire il tiro da 4, il tiro da 5, altri cesti, altri palloni, lanciare palle mediche nel cesto, possono cambiare tutto, ma il tiro a tre punti quello è, ok? Gara delle schiacciate. Mi dispiace dirlo, ma la gara delle schiacciate è colpa di Gordon e Lavin. Diciamo le cose come stanno. La colpa del fallimento della gara delle schiacciate è colpa di Aaron Gordon e Zach Lavin, punto. Perché lo slam dunk contest 2016 è, a mani basse, il miglior slam dunk contest della storia della palla canestro, e le schiacciate proposte con la facilità e il pathos con cui sono state realizzate in quella gara delle schiacciate non è replicabile da nessun giocatore attualmente in NBA, se non da Zach Lavin e Aaron Gordon, che però non vogliono più andare alla gara delle schiacciate. Perché? Perché anche loro sanno che quello che hanno fatto nel 2016 non è replicabile. Chiunque va all'All-Star Game, alla gara delle schiacciate, sa che la comparazione è quella, e quindi chi ci perderebbe tanto, cioè i Morant, i Williamson, cioè quelli che hanno il futuro in NBA garantito, non vanno a rovinarsi la reputazione alla gara delle schiacciate? Eh ma cazzo, Morant doveva fare i buchi per terra, però in confronto a Gordon e Lavina ha fatto le schiacciate del cazzo. Certo! Perché Gordon e Lavina hanno talmente messo l'asticella alta, che anche Morant, Williamson, Giannis, Lebron e chi volete voi, cadono! Cadono in confronto a quella gara delle schiacciate. Per loro non ha senso perdere, non credibilità, ma deludere le aspettative dei tifosi, perché sanno che quella gara delle schiacciate non è replicabile. Uno, perché le schiacciate che hanno fatto sono assurde. E se non avete visto la gara delle schiacciate del 2016, andatevela a vedere, soprattutto la schiacciata di Aaron Gordon sopra la mascotte dei Magic sdraiato in aria. Ok, quella schiacciata più clamorosa della storia dell'NBA, punto. Non me ne frega niente di Jordan che salta dal tiro libero, non me ne frega niente di gente con gli aeroplanini, non me ne frega niente di saltare sopra una macchina, neanche la macchina, il cofono della macchina, che è più basso. Non me ne frega nulla. Schiacciare sopra ad una mascotte, con letteralmente i pattini, l'overboard, quel cazzo che aveva, sdraiato, scordinato, perché era pure in orizzontale. Cioè, fare una schiacciata del genere non ha senso logico, ok? Non ha senso logico. Quindi, se non avete visto quella gara delle schiacciate, riguardatevela, e tornate indietro e mi scrivete, no, guarda che la gara delle schiacciate del 2000, con Carter che fa un 360 e viene giù tutto perché ha il merito su quel garden, punto, è meglio. Nessuno vuole accettare quel challenge, perché hanno solo da perderci. Morant ha solo da perderci se accetta la gara delle schiacciate. Uno perché Lavine e Gordon erano in due, e quindi c'era... L'attesa era split, no? Era divisa tra i due, era un botta e risposta. Se ci va solo Morant contro Juan Toscano Anderson, Obi Toppin e Cole Anthony, nessuno guarda le schiacciate di Anthony, Toppin e Toscano Anderson. Aspettano tutti Morant. Morant aspetta che venga messo qualcuno del suo stesso livello, che crea il suo stesso hype, che abbia la sua stessa capacità di schiacciare, di salto, in modo che se fallisce lui, fallisce anche l'altro. Cioè, o vanno tutti e due giù insieme, oppure vengono tutti e due elevati. Non ha senso per un giocatore del calibro di Morant rischiare la faccia, andare all'All-Star Game, essere comparato a Gordon e Lavine, ed essere rovinato. Perché se lui non fa le schiacciate simili a Gordon e a Lavine è rovinato. Perde credibilità completamente a livello di All-Star Dunking, chiamiamolo così. Quindi non ha senso per nessuno andare all'All-Star Game, per colpa di Gordon e Lavine. Hanno fatto un... Quello Slam Dunk Contest è troppo esagerato. Troppo esagerato. Era un 50 dietro l'altro, non sapevano più cosa tirar fuori. Gordon si è tirato fuori la schiacciata della vita, e non ha vinto comunque, furto più grande della storia. Lavine si è messo a schiacciare sotto alle gambe, da lì è il tiro libero? Dietro la schiena ha il tiro libero? Non sapevano più cosa tirar fuori. Dovevano letteralmente buttarsi giù dall'arena e schiacciare buttandosi giù dal tetto. Era l'ultima cosa che rimaneva da fare. Perché più di 50 non potevano dargli, ma erano tutti 100. E lì è finito lo Slam Dunk Contest. È morto dopo quella gara delle schiacciate. È morto nel 2016. Dal mio punto di vista, non è più replicabile una sfida con quelle schiacciate, con quel pathos, perché comunque il pubblico era era splittato tra Gordon e Lavine. Cioè, non c'era un vincitore vero. Il pubblico voleva che andassero avanti all'infinito, perché le schiacciate che tiravano fuori erano clamorose. Quindi, la gara delle schiacciate è morta quell'anno lì. Quindi, o si tirano fuori 3-4 schiacciatori di altissimo livello che sanno che possono performare allo stesso livello e che a livello di sfida sanno che possono continuare a tirar fuori schiacciate che generano hype nel pubblico, oppure tu hai Toscano Anderson che si mette la mano a Jason Richardson e non sa fare la schiacciata a Jason Richardson. Ma è colpa di Toscano Anderson? Anche, perché sia un coglione. Anche, perché chi cazzo l'ha invitato. Però, il problema è che Gordon e Lavine hanno rovinato lo Slam Dunk Contest. È un dato di fatto, purtroppo. Secondo me è un dato di fatto. Gordon e Lavine hanno rovinato lo Slam Dunk Contest. Colpa loro. Lo skill challenge... Ecco, lo skill challenge è una cosa divertente. Lo skill challenge si può modificare in questo tipo di cose con i terzetti alla Fortnite con magari dei giochini diversi, dei mini giochi. Magari mettono il mini basket in mezzo, no? Che devi segnare, poi cambi giochini. Cioè, ci può stare che lo skills challenge sia un qualcosa di modificato, no? Che sia qualcosa di divertente, qualcosa di... Potrebbero farlo anche una sorta di Takeshi's Castle, tipo... Cioè, per dire... Ci sta che lo skills challenge sia qualcosa che... Sia un po' diverso rispetto al solito, no? Che sia un po' di mini giochi messi qui e lì. Ci può stare. È anche più divertente, magari, da un certo punto di vista, no? Avere uno skill challenge più... Come dire... Vario. Ma la partita in sé dell'All-Star Game non può essere Steph che mette 16 triple che probabilmente avrei messo anche io. Per carità, ok. Un paio le ha messe da 10 metri. Ok, sì. Ok, va bene. Per carità, sì. Quelle le mette solo Steph. Gne, 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 gne. Però il senso è se il ritmo partita è letteralmente lo slam dunk contest trasferito su 48 minuti c'è un grosso problema. Io non dico che debbano giocare come alle finals. Cioè, non deve essere le finals. Ok, perché le finals sono le finals. Però non può essere l'oratorio di San Gimignano la domenica mattina la partita delle Star. La gente vuole vedere una partita combattuta con i migliori giocatori al mondo che si scannano tra virgolette su 48 minuti. Come succedeva qualche anno fa. Io capisco che il numero di possessi sono aumentati. E quindi una volta si giocava 90 possessi a partita. Una volta si usava tutti i 24 secondi prima di tirare. Adesso se non tira nei primi 5 secondi dell'azione è un'azione persa. È un'azione eh ma diamine ci abbiamo messo troppo a tirare. Che adesso si giocano 100, 102, 5 possessi a partita. Quindi è un back and forth costante. I giocatori sono più allenati. Si salta di più. Sono tutti più rapidi. Tutti più veloci. Quindi a livello fisico anche per allenarti per rimanere comunque a livello NBA adesso devi essere veramente un atleta della madonna. Cioè devi avere veramente non solo gli addominali scolpiti ma devi essere anche agile veloce, rapido atletico devi saper tirare passare, difendere. Cioè non solo devi a livello skills ma anche a livello di body a livello di corpo devi essere al top devi spendere un sacco di soldi con 5 preparatori atletici 8 fisioterapisti nutrizionisti dietologi cazzi mazzi e chi più ne ha più ne metta. Cioè non è solo un discorso di sono aumentati i possessi. È tutto quello che comporta l'aumento dei possessi il miglioramento del giocatore medio in NBA non è più come una volta che tu hai lo specialista da 3 e lo specialista difensivo e il rimbalzista e il giocatore in post adesso tu hai il giocatore e devi fare tutto devi cambiare sui pick and roll devi saper tirare in angolo in ala in punta devi saper marcare il pick and roll e in drop e in 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 blitz e in raddoppio e il il 5 piccolo e cambiare su tutti cioè non è più una una questione di di avere il tuo ruolo specifico dove tu hai delle partite dove sai che magari giocherai di meno perché non serve la tua specifica competenza mentre sono partite dove invece giocherai di più perché la tua competenza è più richiesta adesso giocherai sempre fine giochi sempre quindi io capisco che i giocatori siano sempre più stressati fisicamente dalla NBA dal ritmo delle partite dal dal livello medio anche che c'è e a questo punto allora io propongo di cambiare data non si gioca più durante la stagione regolare non si gioca durante i playoff si gioca in off season metà luglio inizio agosto tranne quando ci sono le olimpiadi in quel caso le salti o le sposti le anticipi torni a giocare magari a febbraio quando sono le olimpiadi ma per tutto il resto dei dei quattro anni che ci sono tra un'olimpiade e l'altra puoi giocare in off season tanto esco contro ovest non c'è più giusto quindi non è neanche un fatto di free agent eh ma Arden è free agent adesso a Philadelphia magari firma per Houston di nuovo e quindi eh ha il problema che da est va a ovest ci sono i capitali adesso no Giannis contro Lebron Lebron contro Durant quindi non è più un problema di di est contro ovest giusto lo metti in off season giochi le finals a giugno un mese di pausa all star weekend inizio agosto tutti in ferie ora quella partita perché i giocatori potrebbero giocarla un pochino più agonisticamente perché non c'hanno niente da fare perché la stagione inizia dopo tre mesi perché possono recuperare tranquillamente dallo sforzo hanno un mese di pausa dove hanno recuperato le forze dalle finals dai playoff e quant'altro hai assegnato i premi di della stagione regolare cazzi e mazzi un mese di pausa all star weekend in off season dove i giocatori non hanno più scuse stavolta non hanno scuse per non performare al top e poi pausa tutti felici e contenti eh ma i giocatori hanno i loro i loro viaggi hanno i loro hanno i loro tour da fare e allora torniamo al discorso di prima quindi non è più palacanestro ma è business allora c'è un problema di fondo quindi io li farei giocare in off season a questo punto giochiamo in off season anche le schiacciate no? perché uno dice ed è una critica giusta questa durante la stagione regolare un giocatore non può mettersi a preparare le schiacciate per all star game cioè un giocatore non può dire al coach coach guarda vado a farmi un'ora di schiacciate che ho la gara di schiacciate cioè non è concepibile una cosa del genere ok se invece tu alla fine della stagione regolare quindi dei playoff metti un mese di pausa quindi a giugno finisce la NBA tutto luglio off il giocatore per i cazzi suoi può prepararsi le schiacciate da portare all'all star weekend di del primo della prima settimana di agosto ok eh ma inizia la off season e le firme ok però il giocatore può comunque andare all'all star game anche se deve decidere il suo futuro con chi firmare la partita la può comunque giocare cioè non è che adesso perché uno è free agent non può giocare all'all star game se è free agent in quel periodo dell'anno se appunto viene si gioca la prima settimana di agosto facciamo finta e che ne so c'è Giannis free agent eh no Giannis non può giocare perché è free agent deve decidere cioè un'ora e mezza della sua del suo pensiero dove firmare può metterlo da parte gioca all'all star game appena finisce la doccia ripensa dove andare a giocare cioè non mi sembra onestamente una grossa problematica neanche questo quindi io direi semplicemente visto che oramai l'all star game ha perso completamente la sua valenza sportiva durante la regular season perché i giocatori pensano a non farsi male per i motivi di prima pensano più al guadagno economico dello sponsor che al livello della partita perché tanto la partita non la commentano manco i telecronisti la commentano più la partita cioè non c'è niente da commentare cosa devi commentare nulla scapoli contro ammogliati pare eppure dovrebbe essere il miglior giocatore del mondo ma lo sono i migliori giocatori al mondo però è l'effort che ci mettono che non c'è non c'è perché non ha più validità l'all star game non ha più un significato ma non ce l'aveva manco prima cioè nel senso negli anni 90-2000 non c'era nessuna regola chi vinceva vinceva e basta non c'erano vantaggi economici non c'era fattore campo alle finals non c'era niente di queste cazzate una volta giocavano perché c'era era una competizione sportiva era sentita la partita come il mettersi in mostra l'uno contro l'altro adesso sono più o meno tutti amici non c'è non ci sono faide come una volta non c'è più quel livello di competitività tra un giocatore e l'altro cioè sì uno vuole essere migliore dell'altro ma in campo comunque sono sempre a bracci baci carezze è difficile vedere Durente Lebron che si prendono a pugni mentre invece Garnett diceva a Duncan buona festa della mamma e la madre gli era morta una settimana prima cioè non è più una cosa del genere non è più quel livello di competitività per cui quando c'era est contro ovest c'era magari il giocatore che ti stava sulle palle dall'altra parte quindi volevi metterlo sotto c'erano queste micro rivalità tra le squadre tra i giocatori adesso è una collaborazione dietro l'altra cioè hai Booker che streama Warzone su Twitch e streama con Towns hai cioè oramai è cambiato proprio tutto tutto quello che ci sta dietro al mondo dell'All Star Game al mondo NBA al mondo proprio di approccio alla gara sia delle schiacciate sia della partita che lo Skitch Challenge che la partita delle stelle cioè è come se è come se in Italia per il campionato di Serie A facessimo l'All Star Weekend e al posto di invitare Van Basten Rijkaard e Gullit a giocare la partita delle stelle invitassimo Maurizio Pistocchi Fedez e non lo so e Marrakesh cioè è questo il grosso problema non è più una un evento sportivo è una palla che rimbalza gestita da soldi ambulanti io vi ringrazio vi saluto ci vediamo un prossimo video ciao